qua si vede benissimo come ci sono le piante della prima semina e le piante della seconda che avevamo messo qui a lato tutte scavate e mangiate ed è rimasta solo la pianta e hanno mangiato il grano sotto che è quello di cui sono viotti qui il passaggio dei cinghiali risale alla scorsa notte le ampie aree senza le piantine verdi di mais sono quelle dove i cinghiali hanno scavato a mostrarcele cristian rossi imprenditore agricolo di este che con altri tre colleghi da un mese ha ingaggiato un servizio di ronda anti cinghiali quest'anno i danni sono molto molto superiori agli altri anni abbiamo già seminato e riseminato una o due volte e quindi bisognava trovare una soluzione abbiamo provato con la ronda notturna turni di otto ore continui sulle nostre aziende quattro aziende hanno aderito e la ronda fa 60 70 chilometri per coprire per coprire tutta la superficie a mais delle nostre aziende inizialmente ha avuto anche dei buoni risultati tutto bene per due settimane racconta sconsolato rossi ma i cinghiali sono animali con una straordinaria capacità di adattamento si sono avvicinati li vedeva sempre più frequentemente i danni si sono visti moltiplicare nel corso delle notti di servizio fino a che ieri sera li ha trovati in mezzo alla strada anche casualmente però quando ha suonato il clax o comunque provato a fare qualche lampeggio con i fari della macchina per spaventarli diciamo che non ci hanno neanche fatto caso ecco ha dovuto intervenire con un suono ancora più forte che poi li ha distanziati li ha allontanati sono esasperati gli agricoltori non ce la fanno più le quattro aziende partite con la ronda l'anno scorso hanno perso 35 mila euro senza contare i mancati raccolti del mais che serve anche per l'alimentazione degli animali degli allevamenti a fianco degli agricoltori le associazioni di categoria bisogna che le istituzioni trovino una soluzione definitiva perché il rischio alternativo è che le aziende chiudano c'è poco da fare adesso ovviamente stiamo parlando di mais perché è l'alimentazione più gradita da parte dei cinghiali però quando i cinghiali non trovano più il mais devastano il grano devastano la soia devastano le barbabietole abbiamo delle foto degli esempi anche delle barbabietole cinghiali che conquistano sempre più parti del territorio compresa questa ampia zona arginale lungo il fiume frassine